Ciao, come sapete il Movimento 5 Stelle ha rinunciato e rifiutato i rimborsi elettorali che sono la stessa cosa dei finanziamenti pubblici. Noi preferiamo finanziarci con le micro donazioni dei cittadini che sono di fatto i nostri datori di lavoro. Per questo vi chiediamo di aiutarci e di sostenerci con una piccola donazione. Tutto quello che entrerà nelle nostre casse sarà rendicontato sul sito www.virginiaraggisindaco.it e lì troverete anche le modalità per donare. Grazie, vi aspettiamo!